ECHE Italia sponsor del 46esimo congresso nazionale IDP Italia Albania accordo per lo scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali Normativa russa sui visti per lavoro ne parla Francesca Romana Rotella Ben trovati ad un nuovo appuntamento di ECHE Italia News in apertura vi proponiamo le immagini del 46esimo congresso nazionale IDP associazione italiana direzione del personale di cui ECHE Italia è stata sponsor una preziosa occasione di confronto a bordo della motonave La Superba della quale ci ha parlato il presidente IDP Liguria e direttore del personale di Ansaldo Energia Andrea Delchicca, sentiamo Questo congresso ci ha visto emozionarci, imparare molte cose vorrei citare le plenarie che ci hanno portato questa grande visione e soprattutto siamo andati a lavorare tutti insieme a confrontarci su queste 8 ways tematiche grande soddisfazione, grandi stimoli, grandi idee da portare già da lunedì al suo mondo del lavoro quindi è un grande successo per IDP, 800 persone sono ritrovate qua abbiamo avuto 80 speaker, più di 40 partner, 59 idee nell'ambito della DPA World siamo veramente molto contenti e questo ci serve per affrontare con fiducia e più coraggio anche il futuro L'Italia offrirà assistenza tecnica al governo albanese attraverso un progetto per lo scambio automatico di informazioni finanziarie ai fini fiscali nel quadro dell'implementazione del Common Reporting Standard La firma della convenzione tra i due paesi risalente allo scorso 28 aprile rende operativo il progetto Fostering Tax Transparency in Albania e grazie a questo l'amministrazione fiscale albanese potrà beneficiare di supporto specialistico per gli aspetti giuridici, fiscali, informatici e per la protezione dei dati personali relativi all'implementazione dello standard globale OXE sullo scambio automatico di informazioni finanziarie ai fini fiscali Passiamo ora all'intervista di Francesca Romana Rotella International HR Senior Consultant di ECA Italia alla quale abbiamo chiesto cosa prevede la normativa russa in termini di visti per lavoro Per ottenere un visto di lavoro per la Russia è necessario stipulare un contratto di lavoro locale quindi occorre necessariamente avere un contratto di lavoro russo con una società o un rep office russo Esistono delle quote di ingresso Tuttavia è opportuno considerare che per i lavoratori che si qualificano come altamente specializzati che in Russia vengono chiamati HQS, High Qualified Specialist è possibile ottenere un visto di ingresso per lavoro in esenzione di quota quindi senza dover ottenere una quota di ingresso Inoltre i lavoratori che si qualificano come High Qualified Specialist hanno un ITER procedurale per l'ottenimento del visto più snello, più semplice E ricordiamo che dopo il Focus Brasile dello scorso 10 maggio il prossimo 7 giugno sarà la volta proprio della Russia con un Focus Paese dedicato all'analisi delle principali tematiche fiscali previdenziali, lavoristiche e di immigrazione degli espatriati in Russia Ed è tutto anche per questa edizione di ECA Italia News, arrivederci